... Mercato, oltre questi ingressi che ci sono stati già annunciati da tempo, che cosa cambierà ancora per il Taranto? Il Presidente ha detto per il momento va bene così, ma? Sì, va bene così, però le risposte poi alla fine le darà sempre il campo. È chiaro che se dobbiamo cambiare deve essere fatto con cognizione di causa e soprattutto per migliorarci. Siccome la prima cosa che andava fatta era, secondo me, riprendere un po' il cammino perso e dare tranquillità a questo gruppo che ritengo importantissimo, qualche correzione andava fatta, è stata fatta e se dovesse arrivare 1-2 under, insomma, di spessore è bene, se no stiamo bene così. Matute Kosnic? Matute Kosnic è della gara. Kosnic al momento è a casa per un provvedimento disciplinare che ho adottato io personalmente e come ho sempre dimostrato in passato, insomma, sono abbastanza coerente. Siccome dissi quando mi sono insedato a Taranto, che chi non si attiene alle direttive societarie, alle linee guida che sono quelle dettate dalla società, paga d'azio. Al momento il giocatore è a casa e decideremo dopo questa partita il da farsi. Matute resta? Matute resta se non trova qualcosa in C. Per noi Kevin era ed è un giocatore importante. Se dovesse arrivare qualche sirena dalla C, la valuteremo. È chiaro che scontento, non vogliamo tenere nessuno. Kevin, professionista serio che sta dando la massima disponibilità. È chiaro che per una questione di numeri, di costi e di ruoli, se riusciamo a trovare un'intesa, bene, se no pazienza. Grazie a tutti.